Sarà Roberto Napoli, funzionario del gruppo SAIT, il gestore operativo della riorganizzazione di Coop Alto Garda. Nel corso dell'assemblea di ieri il CDA della Coop ha confermato anche il piano industriale tendente a riportare inutile la cooperativa. Attorno al tavolo erano presenti Promo Coop, SAIT, Cooperfidi e Cassa Rurale Alto Garda. Sempre ieri è ripresa la trattativa con le organizzazioni sindacali per discutere di contratto integrativo e del piano industriale che prevede, tra l'altro, 15 esuberi tra i 163 dipendenti della cooperativa Alto Gardesana. Per iniziare a discutere di qualsiasi cosa è indispensabile che l'azienda stralci immediatamente dal piano la previsione dei 15 esuberi, ha commentato Mirko Carotta di CGL. Sarebbe un segnale forte anche per recuperare la fiducia di dipendenti e soci che continuano ad allontanarsi, secondo me, da questa cooperativa.